Train to be cool fa tappa anche a Caltanissetta nell'istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo. Gli agenti della locale polizia ferroviaria hanno infatti incontrato gli studenti del secondo anno. Due giornate tra slide filmati e persino giochi che hanno permesso di testare la capacità di attenzione e influenzabilità dei ragazzi, ma anche di far conoscere i pericoli dell'ambiente ferroviario. Si prevedono altri incontri durante l'anno nelle scuole di ogni ordine grado di Caltanissetta e provincia. Train to be cool è un progetto ideato nel 2014 dal servizio polizia ferroviaria del Dipartimento della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e la validazione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, si legge nel comunicato, rivolto principalmente agli studenti di ogni ordine grado che soffruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggio a livello o linea ferroviaria. Sono numerosi infatti gli studenti che ogni giorno viaggiano per raggiungere la scuola e durante gli incontri ai giovani sono state illustrate le infrastrutture delle stazioni e è stato spiegato come comportarsi per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri in prossimità di treni e passaggi a livello, senza dimenticare l'aspetto dell'uso dei cellulari che potrebbero essere causa di distrazione se utilizzati in modo inopportuno, non tralasciando il tema dei selfie, i momenti e situazioni poco sicure o ancora l'ascolto di musica con le cuffie. La conseguenza infatti potrebbe essere l'isolamento dall'ambiente circostante e questo potrebbe incidere sulla risposta ad un eventuale pericolo.